Quando i carabinieri li hanno fermati all'uscita di un supermercato di Castelfranco, dopo la razzia, con lo zaino carico di otto bottiglie di champagne pregiato, valore 800 euro in tutto, la risposta di una 33enne veneziana è stata pronta. Volevamo farci un bagno nello spumante. Non è bastato per evitare che la donna, il compagno 38enne e un complice 50enne, venissero arrestati. Oltre allo champagne, destinato evidentemente ad essere rivenduto, avevano appena rubato anche delle scarpe sportive. Nella loro auto, inoltre, i militari hanno trovato svariati i coltelli e occhiali da sole, altra razzia di giorni precedenti, come confermato dai sistemi di videosorveglianza che le avevano già immortalati in azione. Una piccola banda con precisi ruoli. La donna sceglieva le bottiglie da asportare per poi passarle al convivente che provvedeva a rimuovere il dispositivo antitaccheggio con una pinza. Infine, il terzo componente trasportava tutto nello zaino contenente le bottiglie asportate. Fin quando non sono intervenuti i carabinieri e invece di fare il bagno nello champagne si sono ritrovati davanti al giudice per la convalida dell'arresto puntualmente arrivata in tribunale a Treviso.